Equipaggi in corsa, 210. In corsa, anche se era subito chiaro che non si trattasse di gara. Castellarquatto, silver flag. Due giorni immersi nella musica dei motori, in un territorio pieno zeppo di opere d'arte. Paesaggi da guardare, non da raccontare, ci ha già provato Stendhal, prodotti tipici, particolarmente significativi, ai fini di un'offerta enoturistica, prodotti che hanno aglietato la mensa degli ospiti sulla piazza alta. Ha retto il bel tempo. È stata festa, giocati in strada, sui tornanti in particolare, ma anche dai balconi delle case. Aree verdi lungo i 9 chilometri di percorso. CPAE ha la testa di un manipolo di volontari ben organizzati, ciascuno al proprio posto. Hanno garantito un prezioso servizio alla gara, polizie municipali di comuni, carabinieri, polizia stradale, pubblica assistenza, gente comune a indicare direzioni, anche possibili disagi dovuti a qualche ruga dell'asfalto. Niente gara, niente classifiche, ma tante premiazioni a Vernasca Finecorsa, premio speciale a Sandro Munari, premiato un poker di dirigenti davvero tosti, la matra a 12 cilindri di Henry Pescaroli, Fabio Gementi per la FIA Abba Tocci 50. Per il popolo, protagonista di grandi ovazioni, hanno vinto davvero tutti. Nel contesto della Silver Flag, la presentazione della Coppa d'Oro e del Good Festival. In scena, a Palazzo Gotico, ad ottobre, Coppe Vino sono prodotti d'eccellenza e l'abbinamento da Formula 1. Dentro l'evento abbiamo fatto una tabaccata incredibile, su e giù per boschi e sentieri. Il percorso era vietatissimo e blindato.